Yes! Salve a tutti! Momento di football! Football, football, skipiamo subito, vogliamo super football! 20 minuti experience... 16 minuti experience... Sì, il settaggio dovrebbero essere quelli di 4 minuti, eccetera... Comunque, football, benvenuto a puntare in questa serie su... su... band e menti, con le nostre palle ovali, siamo alla finale di conference! Attenzione! Ready! Sì, sono ready! Ready per la finale di conference! Sono ready! I'm ready! Sono ready per questa finale di conference! Che purtroppo mi dispiace che vedrete un qualche giorno di ritardo, un paio di giorni di ritardo, rispetto alla giornata destinata, oggi è proprio eccezione! Nella di oggi per il venerdì, purtroppo era finita la prova, in 10 ore di prova, e purtroppo sono dovuto ricorrere a... fammelo spedire, a comprarlo online, fammelo spedire... Purtroppo è arrivato anche in ritardo, quindi vabbè... Così è purtroppo... Comunque siamo pronti! Ritorno... Non so che ritorno ho fatto, però iniziamo! Football, 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 football... Oh! Che è? Che è successo? Che è successo? Qual è il problema? Non gli è piaciuto il problema? Vabbè, suggerimenti... Quattro verticale, ok! Cominciamo con bel cruciverbone! Cominciamo col cruciverbone! Avanti! Avanti! Di cruciverbone! Di cruciverbone! Di cruciverbone! No! Niente! Niente! Non è andato! Non è andato il cruciverbone! Il cruciverbone non è andato! Eh... Seldig! 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 Ma c'è gente che fa movimenti che non capisco, ma... Senti, va bene! Facciamo che... Cecchio! Tu! Prisa! Poi! Vabbè, ok! Ma comunque abbiamo guadagnato Yard! Il primo... Primo down! Primo down! Primo down! Primo down! Siamo a finale di The Confland! Con corner... Fermi... Fermi agli angoli! Fermi agli angoli... Senti, vado io! Vado io! Vado io! Vado io! Ok! A posto! Primo down! A posto! Iii! Cuppemo down! Avanti! Sì, però vorrei... No! No! Non ho fatto no! Nello schema di corsa! Non volevo! Eh... Sì, va bene! Iiii! Dalla fine fin fermo lì! Probabilmente sempre due dieci! Due dieci! Due dieci! Due dieci! Non me l'ho immaginato! Vado io! Spacing! Voglio spazio! Spazio! Allo aglio! Vado! Eee... Nuovo! Brutta! 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 Che non l'ho fatto! Venisco! Brutta! Eee... Cechio! Iiii! Eee... Eee... Ciao! Eee... Eee... Punt! Eee... 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 Puntiamo! Pantolo! Pampers! 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 Siamo a secondo e 16! Ok! Eh, dei ne finita qualcuno! Copriamo tre match! Copriamo tre match! Va bene! Eee... Copriamo tre match! Eee... 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 no no buttalo due l'ali sac che abbiamo fatto un sac tanto che non sa che tanto che finisce primo quarto nel frattempo non è successo assolutamente nulla 00 ok in domingo sempre il domingo sempre sempre che il nostro con i nostri game packers a vocazione democristiana sempre al centro che il punto io prendo tanto e vado 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 troppi 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 da gestire troppi comunque siamo abbastanza avanti siamo lì pressiamo facciamo pression perché che è successo uno è entrato perché così vabbè ok un in più comunque facciamo che vai bella a posto sempre primo down benissimo benissimo mi sei piaciuto e adesso e adesso facile facile mesce le mesce questo questo lo schema del parrucchiere facciamo le mesce allora mai sperato e tu troppo 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 zip screen schermo mutanda dai schermo mutando schermo va bene lo schermo mutando dai ok schermo mutando schermo mutando funziona come in complete no stava funzionando lo schermo mutando facciamo così ok no io vado vado io vado io scusate e ti una con il primo e goal dai bravo rogers 4 verticale, facciamo 4 verticale 4 verticale 4 verticale, dai X, tu nooo orca di quella trota va bene, niente, fa niente Packer Anders Packer Anders e Packer Anders allora vai, ti qua mio, troppo non ci riusciamo niente, l'avvicino è dura è dura, l'avvicino, è dura è dura Curs, dai, vediamo se una botta di Curs una botta di Curs ci riesce, allora vai dai, là si touch down eppure touch suoi alla grande touch down touch down 6, adesso facciamo facciamo il punto di trasformazione patta il punto il punto in più facciamo il punto il punto in più è meglio che un punto in meno ole ha curato ha curato che ha curato 7 a 0 bene iniziamo bene dai questo è finale finale di conferenza finale da conferenza kick in the middle sempre in the middle e invadisco i nostri demo cristiani dei Green Bay Packers i nostri Green Bay Packers sono la vocazione demo cristiana fanno sempre al centro sempre al centro preciso si nota non capisco niente di football americano penso si nota benissimo ma il bello forse anche questo ok quindi che facciamo si snap notte buttalo giù gravissimo bravissimo secondo e 7 no in 3 no e l'ha fatto più e ha fatto il primo down l'ha fatto chiamano il time out chiamano il time out color free sky with diamonds ok dai infatti prima i dieci no no io Daniel si 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 Daniel chi stanno facendo che cosa no buttalo giù buttalo giù ok chiamano il time out 4 palmi dai 4 palme 4 palme andiamo a 4 palme la favorita che stanno facendo questa bella lì sacco lo ho visto bene ok sempre 4 palme i 4 palme funzionano i 4 palme funzionano le 4 palme funzionano lo basta 4 palme 4 palme 4 palme 4 palme 4 palme ritorno sempre in the middle sempre in the middle sempre in the middle se ti brigano pappete ma chi inizia però puoi prendere questa palla per favore e niente vabbè ok bene e adesso noi adesso noi quindi passpot 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 però che è brutto il sistema passpot allora vai e finza la bim dai uff tinto vabbè vabbè io direi vabbè punt dai punt punt giusto per allontanarlo far passare sti 8 secondi 1 a posto fine primo secondo quarto la prima metà di partita 7 a 0 se un vantaggio dice una meta kickoff è un nemico quindi certo 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 e va alla mia è un'esame che brutto ma si c'è bia c'è 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 copriamo quattro e mostriamo due cosa bello so però facciamo va bene c'è 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 a posto non ho mai sentito meno controllo sul gioco come questo ok allora daniel vai che stanno facendo lo chiamano c'è coro e buttalo bello sulle gambe a posto ma è regolare svegliarci sulle gambe fa niente fa niente bravo daniel se per i amici jack comunque ok la buttava via bene bene io ho reto sempre in the middle ritorniamo sempre in the middle sempre in the middle sempre in the middle no loro non sono parti parti e là mamma mia ti sei finta un po' cosa va bene comunque primo e dieci stick stick vanno ma fai lo science bella bella è libero è libero l'ho presa 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 bella lì vai vai che si ma che son tamarri qua alla grande ed è seconda meta signori dai che dai che questa la portiamo dai che questa questa ormai ci siamo dai il punto aggiuntivo lo facciamo lo facciamo 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 facete o le 4 c'è 0 2 mete vai signori vai signori ci stiamo garantendo la finale della conferenza finali conference della conferenza nazionale come due leghi non mi trovano la trucco non credo che non è il caso di tradurlo e kickoff e in domini sempre in the middle sempre democristiani vai sempre in the middle o le brutto ma va bene lo stesso mai tanto questo qua la prende siccome non non piace fin ginocchia ferma al gioco abito non mi piace la gente singenosa un fermo al gioco comunque che avanti avanti avendo alidur e andiamo con le due alidur e abbiamo le alidur e noi ci abbiamo le alidur e noi ci abbiamo le alidur e noi ci abbiamo le alidur e vai porca pazzazza spaccalo lì va bene olè però guadagnano qualcosina secondo e 64 palme dai che le quattro palme non funzionano sempre vai le quattro palme dai no è infatti non hanno fatto qualche non l'ha fatto sempre quattro palme vai di quattro palme vai di quattro palme il tempo scorre dai che al terzo quarto sta finendo per mano lo vuoi accompagnare non so che comunque da secondo e 12 ma i corsi due abbiamo ottenuto sempre le due alidur e voglio dare ancora fiducia alle due alidur avanti due alidur e abbiamo d'ore le due alidur e abbiamo d'ore e abbiamo d'ore a schede così di testa spiare spiare per proprio americano appaccato quindi non ha neanche senso quello che ho detto va bene dito finisce il terzo quarto siamo all'ultima tampa 22 tampax ok questo è uno schema femminile non capisco che c'è questa in coraggio ma perché fa perché mi hanno fatto stampa brutale va bene bravissimo uno è andato a quattro zampe non lo so perché ho quarto e ventiquattro mi sa che se la giocherà lo stesso si copriamo treccella come fiesta e quindi fanno col cuore che ha fatto non adesso una sinistra bella lì a posto vabbè stiamo dominando bravo smith anche che tamarro vorrego meravigliosa e allora lo slot out va bene lo slot out io sto capendo una c'è spia a dire facciamo che è che la brutto cos'è brutto il corner ipsione ma bene con il corner ipsione che non sei lì che vai 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 dai la taggettua noi prendi tu carica di quella ma io in senso split dai faccio proprio uno schema di costa prima da una tipo primo down e è una sputazza primo da un esputazza primo down e una sputazza avanti io ci vado sempre la corsa jet sweep dai dai 2-minutes warning hd split dai hd split dai 1 3 1 2 3 1 2 3 faccio ce l'ho fatta ce l'ha fatta signato signatura 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 20 a beton e domination finale finale di conferenza ma non vorrei capire che cosa è successo ma va bene uguale io direi 1 e 2 pappete o l'est a posto 21 a 0 direi che ormai è fatta è dai che ormai ci siamo it in the middle sempre in the middle e one and two porca mi fai l'ho fatto male fatte che vai quello parte e non parte fatti soltanto un singinocchia boom bene l'ha sollevato di peso ok quindi pressiamo i quartieri pressiamo i quartieri pressiamo i quartieri avanti avanti pensiamo i quartieri i quartieri pensiamo i quartieri per buio sole a posto a posto dai che ancora pressiamo i quartieri sempre i quartieri però qualcuno ci vuole andare bella appeso l'ha buttato a terra al quattro messo per se un titolo solo quattro solo quattro quartiere pressiamo dai pressiamo i quattro quartieri sai poi ci hanno il primo down così ci hanno il primo down facciamo overload overload utilizziamo dai che tua benissimo ok due alidure due alidure due alidure due alidure due alidure oh bella così avanti copriamo tre cieli avanti vai cos'ha no 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 oh capito sarà l'intercettora meraviglioso va bene dai fa niente fa niente fa niente 4 e 10 ah fanno i retorni non se la giocano neanche ah beh allora in the middle in the middle fanno il pantano andiamo in the middle in the middle pensavo sia la sua cassero pantano vero pantano che mi sia paziente drive goal complica quel di drive goal vabbè e e passpott dai facciamo un passpott così mamma mia staschema non mi piace per niente allora vai 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 però e presa 42 zone 6 flat vabbè ok dai di corsa andiamo dai 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 via ci siamo in giro ci siamo in giro e là vai 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 aspetto a prendere un po' di tempo e poi l'avmetto e signature yeah mi ho messo un po' via perché volevo prendere qualche secondo in più che fa passato comunque bene così bene così attenta 28 a 0 28 a 0 questa finisce 28 a 0 pappete o le alla grandissima alla grandissima kick off in the middle sempre in the middle sempre in the yeah e e questo è curato ok questo è curato vabbè si è curato vai eh eh si a posto dai dai signori copriamo 9 e mostriamo 2 va bene non lo so va bene dai dai che cosa c'è boom beh boom a posto io direi eh lb blitz dai facciamo un blitz un blitz a caso dai blitz blizziamo lì blizziamo lì blizziamo lì e e e e vabbò vabbò dominatelo forte avanti comunque ormai è fatta dai mi sa che la posta cioè se a meno che non c'è più in partite andate ritorno oppure a serie non c'è c'è a meno che non sia così mi sa che la prossima prossima partita e superbowl lo vedremo lo vedremo adesso lo vediamo adesso se la prossima partita e superbowl è possibile possibile che superbowl non lo so lo scopriamo voglio vedere voglio chiudere la puntata scoprendo se la prossima è superbowl voglio vedere certo potessi che potrebbero quagliate tutto molto bello mi piace tantissimo ok abbiamo finisce la game quindi abbiamo vinto la lana siamo campioni di contro forse quanto ho capito se un campione di conference e quindi la prossima è superbowl il prossimo è superbowl possibile voglio vedere tanto aspetta upgrade si upgrade tutta cosa e vabbè se posso vabbè ok e upgrade tutti upgrade si si perfetto meraviglioso voglio vedere la prossima superbowl ad avanza week next week vai voglio vedere se la prossima superbowl ad avanza week next week scusate io voglio capire se la prossima è superbowl e la superbowl signori allora ci vediamo alla prossima per il superbowl e il superbowl superbowl alla prossima superbowl football la prossima è superbowl the football football